A Degri, Italia, Italia, Cereza E nel municipio se città la testa Dove la vittoria che porca la fiore Cristiana, Dio va, in Dio va, credo E nel municipio se città la testa Dove la vittoria che porca la fiore Cristiana, Dio va, in Dio va, credo E nel municipio se città la testa Dove la vittoria che porca la testa Dove la vittoria che porca la testa Grazie 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 Questi ultimi anni abbiamo sperimentato che coloro che fa fatica non sono tanto e solo le canoniche categorie, gli anziani, i tanti campati, i malati di mente, i tossicodipendenti, ma siamo tutti un po' fragili, perché quando si perde il lavoro, quando si fa fatica a pagare la casa e via dicendo, diventiamo tutti un po' rettino più fragili. Allora, senza nessuna retorica assistenziale, senza nessuna retorica pauperistica, diciamo così, dico semplicemente che un po' più di sobrietà, ma un po' più di coesione, è l'augurio migliore che possiamo fare, perché abbiamo davanti tempi difficili, e a me proprio quei tempi che c'erano tanti anni fa, pensate loro, dicevano quelle parole, penso in condizioni sicuramente peggiori delle nostre, non avevano riscaldamento, non avevano ognuno più, meno la casa come abbiamo noi, non avevano comunque alcune certezze, c'erano già degli ingegneri, veniva come battuta l'ecco che mettevano a disposizione la propria capacità per in quel caso difendersi e per anche portare un contributo positivo. Quindi abbiamo così tante sfide davanti e quindi è ancora più sincero, credetemi, in momento anche per me un pochettino faticoso, l'augurio che faccio ai cittadini del Chiesi ai quali vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Grazie! Grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti